Psss! 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 Allora... Se sposa! Bello, eh! Tre ore, finita! Ma io sono contenta che si sposa, perché... Tu capisci? È bello quando qualcuno si sposa. Poi, quando si sposa qualcuno del tuo palazzo, ti riempie di gioco. Ma che ti piace quello lì? Ti piace? Questo qualche volta è passata qua sotto, ma addirittura... Mi piace un tarolone. Ma che soffro? Soffri, ma... Ma... Se non lei dice a me queste cose... Scusa, eh! Ma poi se lo senti, soffri, soffri... Oh, io non c'ho neanche il tempo per soffrire, va bene? Eh, no, non ce l'ho il tempo per te ma soffrire. Oh, a me non piace, è antipatico. È una gatta morta. E poi... Come so, non mi piace. È una gatta morta? È una gatta morta! Ma quello è timido, poverino! Ma quale è timido? Ma... Ma... Scusa... Lo sai... Il mese scorso... L'ho incontrato per le scale. Sai che mi ha fatto? Bam! Una botta dietro! Ma quello l'ha fatto per errore, è passato, l'ha sfruttato. Sì, sì, per errore. Per errore. L'ha fatto così, bam! Ancora? L'ha fatto per errore. A mano aperta. A mano aperta. A mano aperta. E tu tutto questo casino nessuno si è accorto di niente secondo te? C'è stava uno che si è affacciato. Lo sai perché si è affacciato? Perché? Perché come cammini. Ti sei resa mai conto come cammini? Perché come cammini? E tu cammini tutta... Tutta un fuori, no? Tu cammini tutta un fuori. Cammini in fuori? Tu cammini in fuori, sì. Tu cammini in fuori. Guarda che lo posso fare anch'io. Ma io non lo faccio perché non ci trovo il senso. Poi io lo posso fare, però non mi va. Infatti con me lui è sempre stata una persona corretta. Correttissima.